Però l'affetto che siamo riusciti ad avere con questi ragazzi, che ci ricordano sempre e ci chiamano ogni qual volta c'è una nostra manifestazione, quindi il mio orgoglio è proprio di riuscire a restaurare questi rapporti affettivi con questi ragazzi. Francesco, dici due parole del tuo futuro e del Mirano. Nel Mirano senza dubbio ho vinto e ho vissuto molto bene, ho otto o nove anni fantastici e ti ringrazio per avermi invitato qui questa mattina alla vostra presentazione, mi dispiace non poter rimanere a lungo ma come sai la stagione inizia anche per me oggi pomeriggio e vi auguro tutta la fortuna possibile di ottenere dei risultati importanti. Grazie Francesco. Francesco, cinque volte campione italiano, sei volte campione italiano e non dico altri titoli e cosa ha vinto e ti auguro un grande bocca al lupo per la gara di oggi. Grazie Francesco per la tua presenza.